Altro esempio, cercare e isolare un termine con i confini di una parola e il contrario, trovare l'insieme delle lettere che fanno parte di altre parole. Vabbè, qui vediamo l'esempio perché descriverlo così. Ok, allora facciamo così. Vediamo un po'. Non mi ricordo più. Ah, manca una parentesi quadra qui davanti. Ok, così andiamo bene. Dunque, la prima parte dell'esercizio è isolare un termine che si è confinato in una parola, ovvero sappiamo che per parola si intende un insieme di caratteri, una stringa, isolata da altre, dalla punteggiatura, che sia, o dai caratteri non stampabili, che siano spazio, un tabulatore, una virgola, un punto, un punto e virgola, queste cose qui. Ecco, questa forma di questa espressione regolare ci dice cosa? Allora, cercami, in prima posizione, che ci sia una Q minuscola o una Q maiuscola. Questa qui, parentesi quadra, è il gruppo da cercare, di lettere. In prima posizione deve esserci una Q minuscola o maiuscola. Seguite obbligatoriamente da questa sequenza, UI, quindi un Q maiuscolo, un Q minuscolo. In più gli diciamo con la barra rovesciata B che questa sequenza di caratteri, di tre caratteri a questo punto, quindi uno, due, tre posizioni, devono essere però delle parole isolate, non dentro come sottostringhe in altre parole, incluse in altre parole, ma isolate. E in effetti vediamo che qui ho messo a posto una frase adatta all'esercizio e vedete che c'è un Q isolato da uno spazio e inizio riga con la Q minuscola e poi c'è anche qui un punto e uno spazio e rispettivamente uno spazio che isolano questo Q con la Q maiuscola, quindi trova due occorrenze. Cambiando con il suo comando diciamo negativo o contrario la B minuscola in B maiuscola cosa succede? Che si inverte il risultato, quindi la B maiuscola dice trova, isola tutto ciò, filtra tutto ciò che non è isolato come parola e quindi abbiamo sempre gli stessi tre caratteri da cercare ma questa volta che non siano isolati come parola a parte, quindi ecco che improvvisamente mi filtra il Q della parola quindi, vedete che non è isolato ma è integrato nella parola quindi, così come i due Q della parola qui squiglie, non è male sta parola che mi permette di fare questo bel esempio, qui squiglie e non mi filtra più, la B maiuscola, il Q e il Q isolati, vedete? Quindi si inverte il risultato semplicemente, questo l'abbiamo anche visto naturalmente nelle spiegazioni precedenti. Poi andiamo avanti, beh ci sono ancora un po' di esempi, cercare e sostituire due numeri ecco qua siamo sempre, dunque devo attivare però la parte, il pannello delle sostituzioni eccoci qua, quindi cercare e sostituire due numeri qui giusto per usare la barra rovesciata D come comando perché poi i gruppi ormai abbiamo capito come funzionano via lo spazio in questo caso, ecco vediamo un po', ho messo questo esempio in mezzo al testo 12, due punti, 15 che può essere un orario e nelle sostituzioni io ci metto appunto, inverto i due gruppi che sono stati trovati dall'espressione regolare, l'inverto e ottengo 15 e 12 ecco qui, non so a livello pratico fino a che punto questo esempio che magari qui è meglio che metto con i due punti ecco qua non so quanto può essere pratico o meno questo esempio ma forse è tirato per i cappelli però giusto per dire, mettiamo, facciamo finta che questi siano ore e minuti 12 e 15 per un qualsiasi motivo, gli ho scritti sbagliati in tutti, chissà quante occorrenze in questo testo e le voglio scambiare perché ho scambiato le ore e quei minuti ho sbagliato e quindi scambio i due gruppi due gruppi composti da barra rovesciata D che sono i caratteri numerici con un più per il quantitativo quindi da uno a più caratteri numerici tutti quelli che trovi poi ci deve essere un due punti e poi di nuovo un gruppo di caratteri numerici ed ecco che mi isola appunto queste situazioni e poi sotto la sostituzione me le inverte quindi invece delle 12 e 15 diventano le 15 e 12 per dire, solo per fare un esempio qui un altro esempio simile cercare gruppi di caratteri e scambiarli di ordine con una sostituzione ecco che qui questa espressione regolare mi permette di cercare i miei caratteri tolgo lo spazio davanti che non mi serve ecco che qui ho impostato apposta didatticamente questa stringa che non vuol dire niente abc rte pop separate da righetta e sotto voglio scambiarli un po' di posizione quindi metto il terzo gruppo davanti poi faccio seguire gli altri due gruppi così e diventa appunto pop perché pop passa in prima posizione due punti abc, due punti rte ecco anche qui a livello pratico potrebbe essere che ne so un codice assicurativo un codice fiscale un codice di numero di serie di un prodotto insomma quelle sigle l'impostrane che si trovano in giro ogni tanto perché no ancora una volta ho bisogno di scambiarle o di modificare il carattere che separe i vari gruppi di simboli qualsiasi cosa vedete che è facile con le sostituzioni e soprattutto con l'uso dei gruppi isolando i gruppi parti del filtro dell'espressione regolare poi è facile giocare con questi gruppi per scambiare le cose eccetera eccetera poi andiamo avanti cerca le righe che iniziano per Q maiuscolo o P minuscolo e terminano con un punto o una L minuscola ecco questo è un esempio di utilizzo delle ancore praticamente è una delle prime cose che abbiamo visto se non le prime cosa succede questo circonflesso questo apice questo cappellino messo all'inizio sta a indicare voglio che inizia a cercare dall'inizio delle righe quindi ancorato la ricerca all'inizio di ogni riga del test ecco qui le sostituzioni posso anche chiudere così abbiamo più posto voilà ecco allora diciamo l'inizio quindi all'inizio cosa c'è? un gruppo di ricerca che dice la prima posizione può essere una Q maiuscola oppure una P minuscola quindi però all'inizio all'inizio di ogni riga cioè Q maiuscola eccola qua P minuscola eccolo qua Q maiuscola eccetera eccetera P minuscola vedete ogni inizio di riga con una di quelle due lettere lì seguite da cosa? da il puntino famoso che vuol dire qualsiasi carattere quindi seguite dal puntino con l'asterisco che vuol dire o nessuno o uno o più occorrenze fino all'infinito quindi questa parte dell'espressione regolare ci dice che questa Q rispettivamente questa P minuscola può essere seguita da qualsiasi carattere ma proprio qualsiasi il puntino infatti vedete che prende anche le lettere accentate e qui va avanti tra 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 perché l'asterisco è un quantificatore avido quindi lui parte e ci ritorna a tutti la quantità di caratteri la maggior quantità di caratteri possibili per quella riga per la P qui la stessa cosa per questa la stessa per questa la stessa quindi in pratica tutta la riga perché l'asterisco è un quantificatore avido per difetto quindi va avanti e ci mette nel filtro come risultato tutto quanto poi abbiamo questo insieme di ricerca dopo l'asterisco abbiamo questo insieme fra parentesi quadre che ci dice barra rovesciata puntino quindi questo puntino l'espressione regolare non lo interpreta come un suo comando ma proprio come il punto carattere punto grazie alla barra rovesciata e una L minuscola quindi dice che è seguito il tutto da il dollaro cosa vuol dire dollaro? sappiamo che è l'ancora che dice parti dalla fine della riga quindi all'estrema destra e verifica che ci sia o una L finale o un puntino o un punto finale quindi qui è un bel esempio perché usiamo sia l'ancora per le ricerche dall'inizio della riga sia l'ancora per la verifica alla fine di una riga quindi va bene selezionare tutti i caratteri che trovi qualsiasi però guarda che alla fine deve essere può essere solo uno di questi due o il puntino la L minuscola infatti vediamo che la prima riga parte con la Q maiuscola e termina con la L minuscola questa parte con la P minuscola e finisce con il punto questo con la Q maiuscola punto poi ce n'era un'altra punto finisce col punto questa finisce con la L e poi è finita lì ecco interessante anche questo esempio proprio per l'uso addirittura delle due ancore assieme di inizio e fine riga poi cerca i valori è l'ultimo esempio cosa è? cerca i valori numerici con una cifra davanti alla virgola e con due fino a quattro cifre dopo la virgola ecco allora questa quest'ultimo esempio fa proprio quello che però mi sa che non c'è un esempio già pronto quindi lo scrivo scrivo quell'esempio lì 2,4 2,45 25 36,852 9,1234 8,6,9 ecco ho messo un po' di esempi per vedere cosa prende cosa non prende come filtro questa espressione regolare interpretiamola come sempre abbiamo barra rovesciata D che sta a indicare di prendere come prima posizione nella ricerca nella ricerca nel testo come prima posizione un carattere numerico quindi dallo 0 al 9 seguito da un puntino con la barra rovesciata che vuol dire proprio il puntino e non il comando dell'espressione regolare quindi un numero seguito da un punto decimale un numero abbiamo detto quindi non c'è un quantificatore questo vuol dire una posizione quindi barra rovesciata D e vediamo che qui tutto ciò che è messo in evidenza in azzurro in effetti ha una posizione seguita da un puntino una posizione seguita da un puntino una posizione seguita da un puntino il primo non l'ha preso vediamo adesso perché perché dopo il puntino seguono nuovamente solo caratteri numerici e in questo caso però gli abbiamo aggiunto un quantificatore ben preciso e vuol dire che dopo il puntino per essere valido devono esserci minimo due numeri fino ad un massimo di 4 ecco perché questo 2.4 non l'ha preso perché perché va bene fino al 2.4 ma il 4 è una cifra sola e non il minimo di 2 non è rispettato non l'ha filtrato il 2.25 è il minimo perfetto il 36.852 la parte che va bene ed è filtrata è quella che ha che prende una cifra prima del puntino e le tre cifre dopo perché 2.4 ci stanno dentro l'ultimo esempio c'ha la solita cifra davanti una il puntino 1,2,3,4 cifre dopo e quelle che seguono oltre la quarta cifra vengono ignorate perché il limite è rendetto fino a 4 non male e voilà abbiamo finito con gli esempi e a questo punto ci ho messo un paio 2,3 note prima della conclusione note a margine quindi la conclusione diciamo della parte di teoria delle espressioni regolari la conclusione di tutte le spiegazioni di tutti i comandi di cosa fanno uno uno e di questi esempi che li hanno un po' combinati assieme vale la pena un ritenuto utile mettere anche queste note che poi appunto vi ritroverete da poter leggere tranquillamente nelle scalette che vi lascio da scaricare nelle descrizioni dei video e la prima nota è per sommi capi cosa dice che le espressioni regolari possono essere considerate in un certo senso un linguaggio di programmazione anche loro come altri linguaggi di programmazione e un vecchio detto nel campo degli sviluppatori dice più o meno 100 programmatori 100 soluzioni quindi ogni sviluppatore di software ha il suo modo di vedere un problema da risolvere e quindi imposterà il codice con il suo linguaggio di programmazione a modo suo e così è in una certa misura anche valido per le espressioni regolari e quindi vuol dire che gli esempi che avete visto qui cosa volevo dire con questa nota che gli esempi che avete visto qui finora sia durante proprio le spiegazioni teoriche singole sia durante proprio questo video con questi esempi che vi ho appena mostrato uno dopo l'altro sono una soluzione al problema posto ma potrebbero anche esisterne altre magari altre forme più eleganti più stringate ancora oppure più complesse di espressioni regolari non è detto che quella che vi ho mostrato qui sia l'unica valida magari sì per una determinata situazione magari no quindi prendete quello che avete visto compresa questa per esempio come una proposta di soluzione diciamo si ottiene risultato sì quindi è valida non è detto non è forzatamente vero che sia l'unica modo di impostare l'espressione regolare per ottenere il medesimo risultato ecco e questo è il succo di questa prima nota seconda nota importante è che vedendo quanto sono potenti ed elastiche malleabili queste espressioni regolari potrebbe succedere che si cade in tentazione di andare troppo in là ovvero di esagerare ovvero di usare un'espressione regolare per creare un filtro incredibilmente complesso che consideri tutte le combinazioni possibili ma questo ha naturalmente un rovescio della medaglia è che non è che le espressioni regolari magicamente ci danno questo risultato dietro un'espressione regolare c'è del lavoro per il vostro pc per la la cpu per il processore del vostro pc perché non è che qui appunto come dico è tutto magico voi scrivete e vedete qui il risultato in realtà c'è dietro del lavoro ovviamente ci sono dietro dei cicli di verifica del testo deve pur essere letto il testo per essere verificato secondo quello che voi impostate e questo è lavoro per il vostro pc o per il vostro server se stiamo parlando di un vostro sito web e appunto la tentazione di voler esagerare controllare tutto con le espressioni regolari filtrare verificare tutto può portare appunto ad esagerare quindi a creare delle espressioni regolari così pesanti che soprattutto qui stiamo parlando di siti web magari con centinaia di migliaia di visite giornaliere per ora che devono essere sempre eseguite ad ogni visita e quindi l'esagerare può portare a rendere lento un sito web o rendere lento un vostro applicativo che vuole usare una determinata espressione regolare perché appunto deve essere elaborata questa espressione regolare perché è interpretata ogni volta parte il motore che sta dietro le espressioni regolari parte interpreta quanto avete scritto verifica che sia corretto se corretto inizia e parte ad applicare quanto voi gli chiedete a tutto un testo che può essere più o meno lungo ecco che quindi bisogna fare anche attenzione a non esagerare a non essere estremisti a vorremmo controllare tutto con le espressioni regolari benché per quello che avete visto si potrebbe essere tentati di dire ma allora posso far tutto così quindi attenzione soprattutto per chi lavora nell'ambito web attenzione a trovare la giusta misura di caricare il sito web con queste espressioni regolari c'è sempre un buon compromesso per tutto non esagerare se no si rischia anche di impiantare tutto poi ultima nota ci sono diverse implementazioni di motori per le espressioni regolari l'avete già visto e notato all'inizio proprio al primo video quando ho presentato questo strumento interattivo che abbiamo usato per tutta questa parte del corso avete già visto che qui ci sono vari già qui si presentano tre motori diversi per interpretare le espressioni regolari quello PHP JavaScript che abbiamo usato noi e Python ce ne sono anche altri ma differiscono per quanto ho potuto trovare io e leggere io dei riferimenti in rete differiscono poco o nulla fra loro addirittura ci sono linguaggi che sfruttano il motore di altri per esempio da qualche parte non chiedetemi più dove ho letto che PHP usa o usava lo stesso motore del linguaggio Perl quindi addirittura la medesima cosa sfruttata in due linguaggi diversi questo per dire cos'è lo scopo di questa nota è che questo ci facilita le cose nel senso che quanto abbiamo imparato finora e visto finora in questo corso è valido in qualsiasi ambito nel senso che questa sintassi non è valida solo per JavaScript solo per questo sito interattivo solo per che ne so le espressioni regolari sotto Ubuntu piuttosto che sotto Windows che no le espressioni regolari sono standardizzate così quindi quello che abbiamo visto qui al di là dell'ambito dove innesterete le vostre espressioni regolari quindi che sia un linguaggio di programmazione piuttosto che un altro le espressioni regolari saranno poi sempre queste ecco con piccole variazioni sintatiche che potrebbero consistere per esempio nel dover prevedere di scrivere anche queste barre in cima in fondo le espressioni regolari oppure lasciarle via perché l'ambiente nel quale lavorate le mette poi lui dietro le quinte senza necessariamente chiedere a voi di scriverle per esempio quindi tutta l'espressione regolare come sapete è questa ma magari il vostro linguaggio di programmazione o il vostro ambiente di sviluppo vi permette di scrivere solo questo che poi a questo ci pensa dietro le quinte il vostro linguaggio ecco non lo so solo per farvi capire dove può stare la differenza ma in sé la sintassi dell'espressione regolare è questa con poche veramente poche differenze fra un linguaggio e l'altro quindi quello che abbiamo imparato e acquisito è quello e vi ritroverete a casa vostra in qualsiasi ambiente vogliate poi usare per applicarle conclusione vera e propria di questo video tutto bellissimo finora credo almeno spero che a chi interessa un argomento di questo tipo sia risultato tutto bellissimo finora però cosa me ne faccio la domanda è bellissimo queste espressioni regolari mi permettono di filtrare di tutto e di più di voltare un testo come un calzino ma concretamente poi cosa faccio al di fuori di questo sito regx101.com interattivo cosa faccio come faccio io a sfruttare nel mio sistema operativo ubuntu piuttosto che fedora piuttosto che windows piuttosto che mac come faccio a sfruttare queste espressioni regolari per il mio uso che ne so in uno script bash in uno script fish in uno script di una qualsiasi shell qualcosa che mi venga utile come faccio ecco questa è la domanda fondamentale ma cosa me ne faccio anzi la metto in grassetto come posso sfruttare concretamente l'espressione regolare nella mia quotidianità non necessariamente andando a pensare a chissà quale sito web di importanza mondiale ma anche solo sul nostro pc concretamente nelle nostre piccole operazioni spicciole lo vedremo nei prossimi video ecco perché dicevo all'inizio di questo corso che è un corso che è tutto legato alle espressioni regolari però c'è questa parte questa prima parte del corso primo grosso capitolo che si conclude adesso che ha parlato diciamo così della teoria delle espressioni regolari dal prossimo video partirà una seconda parte pratica che mostra cosa mostra come alcuni comandi a nostra disposizione nel terminale quindi comandi che possiamo poi inserire e usare negli nostri script bash o fish o quello che volete voi comandi dicevo che accettano fra gli altri argomenti e parametri per per fare il loro compito per svolgere il loro compito accettano anche dei parametri sotto forma di espressioni regolari quindi ecco che si chiude il cerchio qui l'anello mancante quindi noi aprendo il nostro terminale possiamo crearci degli script usare in modo diretto questi comandi da terminale che sono già installati nel nostro sistema operativo linux in questo caso per ubuntu ovviamente visto che uso ubuntu sono già tutti lì a nostra disposizione basta sapere che esistono e vedremo nei prossimi video come si possono usare integrando l'espressione regolare quindi con questo ho concluso vi saluto e vi attendo appunto al prossimo video ciao ciao ciao